Una di loro. La polizia mi chiamò e mi disse, perché sapevano che cosa facevamo, e mi dissero che facciamo con lei. Mamma mia, che mi fai un momento e che facciamo con lei, appunto, che regamento. Lo guardai e disse me la faccio a casa. Questo è stata la prima ragazza. Una ragazza nigeriana di vent'anni, più o meno, si chiamava Rosa, con un grande sogno. Aveva il sogno di cantare, lei cantava bene. Quindi io l'avevo conosciuta chiaramente, quindi avevamo già stretto una licizia. Ce la siamo portata a casa e da lì è nata la casa dove noi abitiamo che si chiama Boa Sima Trimperia. Tutti più o meno conoscete il sacro cuore, però è una piccola parte del sacro cuore ritagliata, diciamo così, e lì ci viviamo noi. Che cosa significa lavorare sulla strada, fare inizioni della strada? A me quando mi dicono fai un'opera sociale, a me non faccio un'opera sociale. L'opera sociale la fanno molto meglio tante altre persone. Quello che noi facciamo, cerchiamo di fare un'opera sociale. cerchiamo.